Allora siamo giunti quasi alla conclusione di questi due anni intensi di video, grazie anche a mio figlio Stefano che ha fatto i montaggi, ringrazio soprattutto tutti coloro che hanno collaborato in questi anni, fotografi e io spero che in questi due anni vi siano piaciuti i video, un grande augurio per tutti gli appassionati di ciclismo per delle buone pedalate, ciao a tutti! 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 Ciao a tutti zumi! Il video è pronto Sì, quello che viene fuori Buongiorno, grazie a tutti Ciao, grazie a te Allora grazie al bc Schio Riturati Non riesco ad arrivare all'arrivo Ho preso un strappo all'ultimo momento Grazie a tutti Un po' più salotti